Un deposito clandestino usato da una nota peschiera del centro di Bari con all'interno prodotti ittici sprovvisti dei requisiti di tracciabilità igienico-sanitari, un quantitativo di oltre inquintale. E la scoperta fatta dagli ispettori del centro di controllo area pesca della Guardia Costiera di Bari con il personale dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale di Bari. Durante l'attività ispettiva gli operatori hanno accertato che l'attività svolta all'interno del locale veniva eseguita senza alcuna autorizzazione e in spregio alle più elementari regole igienico-sanitari. Oltre all'ingente sequestro a carico del titolare è stata effettuata una multa di 4.500 euro. L'attività di repressione da parte degli uomini del nucleo ispettivo della Guardia Costiera contro gli illeciti in materia di pesca e commercializzazione illegale di prodotti ittici sprovvisti dei requisiti di legge proseguirà incessantemente anche nei prossimi giorni allo scopo di garantire rispetto delle norme e tutelare la salute degli incolpevoli consumatori.